Ciao ragazzi, eccomi qua di nuovo. Oggi andiamo avanti con il programma dei Cienluc. Fino adesso abbiamo visto bene il numero 1 e il numero 2 e oggi incomincieremo a rivedere adesso il numero 3. Per alcuni di voi è probabilmente una novità e ci sarà probabilmente l'occasione di poterlo imparare in questo modo. Il Cienluc numero 3 è composto da 3 movimenti. La cosa importante è che il primo movimento, come andrete poi a vedere, sarà da fare insieme al passo. Quindi, dalla posizione di guardia sempre, si farà un passo con la gamba destra in Dintan e si eseguirà il Dammok, ok? Il Dammok con la mano destra. Subito dopo, tenendo la stessa posizione, si carica sempre il braccio destro, ok? Portando bene la mano al petto e si tira questo pugno qua, ok? Questo pugno qua, conosciuto come Dammtatt oppure come Dammfattngang, ok? Il pugno a martello laterale, in questo modo. Subito dopo questa tecnica si farà perno sul piede destro, ok? Che è quello che abbiamo avanti, si esegue il Chienkwet con mano sinistra e gamba sinistra. Il Chienkwet è la stessa tecnica che abbiamo applicato nel Cienluc numero due, soltanto che andremo a farla dall'altro lato, quindi con il taglio con la mano sinistra e la spazzata con il piede sinistro. Spero sia stato tutto chiaro, la tecnica non è difficile, potete impararla e ripassatela così poi la faremo insieme nelle lezioni online. Ciao ragazzi e buona giornata!